completamente svuotato l'ex campo TAV di Novara. La comunicazione è stata fatta ufficialmente dal sindaco Alessandro Canelli con una lunga diretta social. Finalmente dopo tanti anni siamo riusciti a svuotare dai suoi residenti quest'area, abitanti, che, nel lontano 2010 dovevano essere collocati in questo posto solo temporaneamente. Ha spiegato Canelli sono arrivate a starci più di cinquecento persone.